Prima di iniziare e arrivare poi ai contenuti effettivi del corso, è bene fare un'importante premessa, è che il corso verrà su piattaforma Windows per quanto riguarda il computer desktop e Android per quanto riguarda il mobile. Questo perché? Perché vogliamo usare Windows? Dunque si tratta semplicemente di numeri. Normalmente quando uno pensa dei corsi sicurezza, o se guardate la maggior parte dei corsi sicurezza che esistono a diversi livelli, praticamente il 90% di questi corsi è su piattaforma Linux. Questo perché Linux è ritenuto comunque una piattaforma molto più sicura rispetto a Windows. Il punto è che a mio parere fare un corso di autodifesa informatica, quindi un corso che non è un corso di white hacking, anche se magari parleremo nelle lezioni più avanzate di white hacking, ovvero quel hacking etico, che si può interpretare come difesa da quelli che sono gli hacker black hat, quindi gli hacker criminali, senza girare tanto intorno al concetto. È irrealistico dal mio punto di vista fare un corso che si rivolge alla platea, alle persone normali, comuni, che non sono professionisti del settore e imporre come requisito l'uso di Linux immediatamente. Per diverse ragioni, perché più dell'80% delle piattaforme di computer sono Windows. Quando voi andate a comprare un computer in un negozio è Windows, ok? Linux è ancora fermo all'1% solo, quindi questo corso non vuole rivolgersi a quell'1% ma a tutti gli altri, anche perché con adeguati accorgimenti possiamo raggiungere un livello di privacy prossimo a quello di Linux. Se no sarebbe come imporvi di andare in giro vestiti praticamente con il casco, no? Essendo un corso di autodifesa, chi è che andrebbe mai in giro vestito tutto con il casco, con un giubbotto antiproiettile tutto il giorno? Sarebbe scomodo, scomodissimo. Infatti, a mio avviso, e qui dico anche che non è assolutamente questo un discorso di quale sia il migliore sistema operativo, cioè se sia Mac, se sia Windows, se sia Linux, non è assolutamente questo il discorso, ma noi parliamo di quale sia il migliore per questo corso e per fini pratici. Perché se noi utilizziamo Linux, è vero, abbiamo un sistema che dal punto di vista della privacy è ottimo, però poi non possiamo usare del software, magari non possiamo installare dei programmi perché sono incompatibili, magari non abbiamo gli aggiornamenti che invece in Windows sono molto frequenti, anche se negli ultimi sistemi Linux hanno migliorato questa cosa. Poi bisogna destreggiarsi in tutte le distribuzioni che ci sono di Linux, di Windows, cioè banalmente ce n'è una, c'è Windows 10, versione home e versione pro. Di Linux ce ne sono più di 250, ok? Non esiste un Linux uguale agli altri, si dice. E poi a livello di bug, non pensate che Windows sia così buggato rispetto a Linux, cioè il web è pieno di domande per risolvere bug su Ubuntu, quindi, o su altri distro di Linux, quindi. Poi vabbè, i driver, voi volete usare un sistema che comunque vi consente di automaticamente riconoscere ogni driver, quindi se attaccate una stampante non volete andarvi a cercare sempre manualmente tutto, e così anche per chi gioca i videogames. I videogames, la maggior parte, sono tutti compatibili per Windows e anche le altre periferiche. Se attaccate il cellulare o attaccate un tablet, non c'è bisogno che andate a cercare tutti i driver ogni volta installate, che vi spaccate la testa su un sistema. Un sistema che, è vero, Linux è gratuito. Windows ha una licenza, molto spesso è inclusa quando uno compra il computer. Però anche il nostro tempo ha un costo, quindi se noi dobbiamo impazzire per ogni singola cosa su Linux, allora è meglio continuare a usare Windows. Ok? Quindi, giusto per chiudere questa premessa, noi faremo in modo di raggiungere un livello di privacy sufficiente anche su Windows, per quelli che sono i fini di un corso di autodifesa informatica, quindi difendersi dalle minacce e navigare poi anonimi e difendere anche la propria privacy. La seconda cosa che voglio dirvi è come affrontare questo corso. Allora, come avete visto, il corso è diviso in una serie di lezioni. Ogni lezione è una durata che va da circa un quarto d'ora a 20 minuti. Ce ne sono alcune più lunghe, alcune di 30-35 minuti e due o tre più corte, di 10 minuti circa. Ogni lezione ha davanti un piccolo badge, cioè un'etichetta. L'etichetta ci dice se la lezione è base, media oppure per esperti, quindi dipende dal livello di difficoltà della lezione, ma non vi preoccupate, anche quelle medie o esperte sono comunque semplici, non serve essere ingegneri informatici di certo per affrontare questo corso. E poi avete un'etichetta invece che indica sicurezza, privacy oppure se si tratta di un approfondimento. Sicurezza e privacy è importante per capire se quella lezione in particolare si focalizza sulla privacy oppure sulla sicurezza. Quindi per affrontare le lezioni io vi consiglio sempre ovviamente di guardare i video e leggere attentamente anche le risorse che ci sono poi sotto il video, quindi non limitatevi al video, perché in ogni lezione ci sono spunti, ci sono approfondimenti, il lessico, varie cose che sono assegnate sotto il video. E per quanto riguarda invece l'ordine, anche qua dipende da voi, potete decidere di andare in ordine, le prime lezioni sono subito pratiche, sono abbastanza basiche, consentono di impostare appunto le impostazioni fondamentali di privacy su windows, oppure che browser scegliere per navigare, insomma sono un po' le impostazioni di base per iniziare poi i lavori. Le lezioni andando avanti diventano, rimangono sempre pratiche, ma diventano anche un po' più teoriche, abbiamo delle lezioni abbastanza teoriche, comunque molto importanti, quindi magari potete affrontare prima quelle se volete, non so, anche le lezioni, non so, sullo spam, se siete curiosi, oppure potete andare subito verso la fine, ci sono delle interessanti lezioni su la censura nel web, oppure sullo stato della pornografia nel web, oppure sul bullismo, insomma ci sono, potete saltare da una all'altra se volete, la mia raccomandazione è solo quella di farle tutte, chiaramente le lezioni, ecco. L'ordine comunque non è casuale, se le seguite in ordine avete un'idea migliore di quello che è stata l'impostazione, però magari siete subito curiosi di una cosa, potete saltare a quella, ecco. Quindi che altro dire, buon corso, spero che vi piaccia, e per qualsiasi dubbio, oppure se trovate delle imprecisioni, o volete dirmi qualcosa, o avete bisogno, potete scrivermi utilizzando il modulo che c'è nei contatti, quindi poi vi risponderò, cerco di rispondere a tutti il prima possibile, ecco.